E questa era come se ballassimo, la dobbiamo chiudere perché le direttive sono tassative, quindi io Andrea dico a tutti, se volete seguirlo sui suoi canali social, ma anche se volete sentire di nuovo questa canzone su YouTube, Spotify, eccetera, eccetera, vuoi dirci la stylist che ti ha accompagnato oggi? Allora, assolutamente, ringrazio Marzia Cipolla, la mia stylist che è pazzesca, tutti i miei vestiti, se ne occupa lei che è qui, e soprattutto ringraziamo la designer che ha realizzato a mano questo vestito, Emanuela Madonna, che ha realizzato proprio questo vestito, l'ha disegnato lei, veramente grazie. Si chiama più o meno come me, quindi questa è già simpatica. Grazie Emanuela, allora grazie a te Andrea per essere stato con noi. È stato un piacere, peccato che il tempo vola. È già volato, vedi? Quando ci si diverte vola. Ma noi ti riaspettiamo quando vuoi, siamo qui, per qualche pettegolezzo, pure senza musica, io vengo qua e chiacchieriamo di quello che vuoi. Va bene, va bene, mi piace anche questo tuo lato suocera, grazie mille e buon weekend Andrea. Grazie mille, grazie a tutti. Io saluto Lorenzo Fantini in regia, lo ringrazio, noi ci vediamo domani con Domenica Insieme alle ore 14, sempre sul 264. Ciao! Ciao!